fratelli della terra voci dall'infinito attraverso vanda albano giugno 1998 a cura dvb i fratelli dello spazio cari fratelli della terra abbiamo dimenticato la parte più importante del vostro esistere il dispensatore di tanta energia il padre e gli delega delle entità ad accompagnarvi nel vostro cammino affinché voi possiate coesistere e condividere quanto vi viene donato esse vi spronano a risalire la cima con rapidità facendovi prendere coscienza che i tempi sono ristretti e quindi dovete allungare il passo se non volete essere tagliati fuori da quanto avverrà l'evoluzione nella materia un suo tempo deve essere dato spazio ad altri pianeti e ad altre creature che aspettano di proiettarsi nel cammino di risalita tutto è coordinato e procede nella perfezione del momento questo momento sia proficuo per voi che assorbendo più energia divenite maggiormente consapevoli che tale unione avvicinando il basso all'alto vi accosta a culture con un sapere diverso dal vostro cultura e progresso si perpetuano nei tempi senza tener conto che tutto ciò che esiste ed è esistito nel cosmo è sempre l'eterno presente non vi è niente da inventare perché tutto è già esistente e programmato dalla mente suprema grazie a tutti 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 grazie a tutti